Ultimi lavori esterni ma l'impalcatura non c'è più. L'ex tribunale, ex carce ed ex vigili urbani ormai è pronto. Un anno di lavori, di due era il tempo inizialmente stimato per il cantiere ed invece l'imponente complesso è pronto in tempi record. Bianco Candido, il palazzo dell'ex tribunale che ospiterà gli uffici e i dipendenti di edizioni, la finanziaria della famiglia Benettona, si affaccia su piazza Duomo. Un importante lavoro di riqualificazione che è guardato con attenzione dalle tante attività economiche presenti in zona che confidano porti lavoro un po' a tutti. Sicuramente rinnova la piazza da lustro e speriamo porti anche un contributo economico per tutti gli esercizi pubblici. Speriamo che porti altro lavoro, insomma, tutto qua, dopo non so per il resto. Spero che il centro inizi a rivivere perché come adesso, insomma, è quasi morto. Un cantiere importante che per molti mesi ha reso l'avito difficile ad alcuni commercianti che si sono trovati a fare i conti con transenne e marciapiedi sbarrati, ma che oggi alla vista dell'edificio rimesso a nuovo ne apprezzano l'effetto sulla piazza. A livello estetico sicuramente è un gioiello per Treviso perché comunque è stato restaurato, è stato valorizzato. Il restauro dall'ex tribunale dell'intera struttura che si affaccia su piazza Duomo con tanto di parcheggio interrato, uffici, sala ricevimenti, porta con sé anche una nuova e diversa visione della stessa piazza Duomo. Molte le voci che si susseguono su quello che potrebbe essere il futuro della piazza. Intanto un primo passo riguarda il parcheggio, oggi apprezzato dai trevigiani che vogliono arrivare praticamente in centro storico. Alla chiusura del parcheggio si aggiungerebbe anche la chiusura di via Manino, un test di sei mesi per vedere come va e già si teme una pedonalizzazione. Spero non chiudano il centro come hanno fatto in altre città perché altrimenti l'economia vada a perderne sicuramente perché la gente purtroppo è comoda, quindi ha bisogno di arrivare in centro, parcheggiare e fare una passeggiata. Se noi chiudiamo il centro storico non viene più nessuno e la città va a morire.